Allora signori e signore, la mano, una matita, questa matita rimarrà come di incanto attaccata alla mano, perché è magica, una matita magica, come potete vedere la matita rimane attaccata alla mano, ho tutta la mano aperta, come per magia. In questi vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao.